Ciao ragazzi, vi faremo vedere la mia arena, ho deciso di farvela vedere perché in questa arena ho beccato, se così si può dire, ho draftato sei leggendarie, che non è una cosa che capita comunque tutti i giorni, no? Sì, poi diciamo che le leggendarie schifo non fanno, queste sono pure più forti del normale perché ha beccato insomma un paio di tarim. Se vedete il video vedrete quali leggendarie ho trovato, vabbè tanto non gli escono, avete la decklist a sinistra perché tanto non gli escono, non le pesca, le sono uscite nel draft ma non le pesca. Ci sono e le pesco, le pescherò e ci sono. Spero ragazzi che il video vi piaccia, se vi è piaciuto lasciate un commento, fateci sapere com'è andata. Ricordatevi che alle 6 di questa sera esce invece il mio video, quello in inglese per tutti, quindi sia per chi non parla l'italiano come invece sono i follower di Emanuela. E se volete rimanere connessi con i nostri contenuti mi raccomando iscrivetevi al canale. Così vi arrivano le notifiche. Vi lasciamo al video. Vi lasciamo al video, bella. Ciao. Ciao. Finito. Di quello che hai da dire. Finito. Mi farà piacere. Mi farà piacere. Mi farà piacere. Mi farà piacere. Ah, mettiamo scudo di vino alla idrologa, perché così almeno gli togliamo dei punti vita senza perdere la creatura. E poi facciamo il segreto perché così se mi torna in mano questo o questo lo riuso. Questo lo riuso per ridare scudo di vino a una creatura e questo lo riuso per prendere un segreto migliore di quello che avevo prima. No, facciamo il martello per poter uccidere la 3-1. E' uccidere la 3-1? E' uccidere la 3-1. Per la giustizia! E' uccidere la 3-1. Ok, questo si uccide da solo. Allora, questo lo faccio dopo aver attaccato perché così il danno del lanciatore di coltelli non verrà sprecato sulla petina che c'era prima. Invece va addosso direttamente al... Warlock Qua c'è accanto a me Daniel che mi suggerisce questo. Sì, perché tutti gli altri non sarebbero utili in questa situazione. Ma non va nell'acqua. No. Wow. Tutto sto tempo. Ah, finì tutto così. Vogliamo avere maggior creature possibili. Oh, però se mi parla nell'orecchio non posso facer niente. Vabbè, avete capito? Nel board così almeno poi possiamo fare il... Cosa grande. Io devo fare solo video che fanno ridere. Ecco esatto, sì, perché prima parlare non ci siamo. Poi qua mi parlano, in orecchio. Mentre io parlo qua mi parlano. Ora possiamo fare il destriero primordiale. Il 5-2 Che attaccherà diretto. Più mi rimetto del cuore. Mi chiedono... Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Sai che potremmo fare? Tu vieni qua con me E lo facciamo insieme E tu parli e io gioco Capito il senso? No così Perché se no diventa veramente complicata Oh mazzo Dice pure bene A questo gli dice bene Sì perché poteva andare su quella 2-3 Vabbè la prima leggendaria è riuscita no? Ne mancano ancora 5 Ma in realtà pure dal servo di Calimus Secondo me ce ne può uscire un'altra Ah ma sto a 15 Sì no tranquilla Ok Pronta a prendere una cifra di danni? No Fai il lorino E adesso Uccidi la 7-4 con l'arma Eh sì Eh beh che sono un po' tutti danni su 7 Ah beh ammazza Tanto me ne avrebbe fatti 14 Eh sì se ti uccidi il 3-5 sì Per quello che bisogna ammazzarlo per forza Funziona solo sulle noti semplici Ok quindi pesca gratis Finito No E adesso facciamo quello Perfetto Così ci ricarichiamo un po' Lo metto già no? Sì sì Fai anche la P.D. E poi uccidiamo questo Con la 2-2 Sì E con la 1-1 Non puoi dire Sì anche con l'arma Potevamo attaccare con uno scinti No la 1-1 Va bene E' uguale Quindi è quello che avevo pensato di fare Ah è vero perché mamma è morta Perché quella muore per quello Me l'ho scortata Atteria muore uguale quindi Non è un problema Beh si ammazza pure da solo Ah ci avrà stato Il patto tenevoso Ok no non è ancora morto Sì ma è ancora una leggenda Ok Sì No 2 Eh un attimo Fammi arrivare Come desideri E poi picchio Tieniti la carica dell'arma Che non si sa mai Certo Sono arrivata al 30 De nuovo Sì ti ha detto pure sfortuna Che hai beccato la Gin Invece che Ragnaros Perché con Ragnaros Prendevi 8 al turno Invece che 3 Beccato una storia leggendaria Sta partita Eh infatti Cioè ce n'ho 6 Porca miseria Sono tutte lì Tutte Si nascondono Morti No Quello non lo baciuchiamo Ok Piccolo diretto Ok All test Siamo così forti Che non servono nemmeno le leggendarie Per dire Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.